A Roma, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato presentato il programma straordinario di ricostruzione e adeguamento sismico di tutte le scuole danneggiate dal sisma 2016, alla presenza del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. A presentare il programma il Commissario Giovanni Legnini, Giovanni Portulari, responsabile investimenti pubblici in Vitalia, Elisa Grande, capo dipartimento di Casa Italia, e il Presidente Anac, Giuseppe Busia, presenti amministratori delle quattro regioni e delle province. Si tratta di 450 scuole complessive, in particolare per oltre 227 interventi nelle quattro regioni interessate, si adotta, ed è questa la novità, una procedura con una sola gara d'appalto suddivisa in due bandi, due accordi quadro con due subcommissari, gara partita il 25 maggio con 900 milioni di euro in ballo, è la prima volta che si fa un'operazione del genere. Legnini ha spiegato che 189 sono nuovi interventi, 38 già finanziati, i cui enti hanno deciso di aderire all'accordo, 24 gli interventi già conclusi che si aggiungono a una ventina di scuole provvisorie del post-sisma, 22 in corso di realizzazione, 30 circa in fase di gara, 16 circa in affidamento, 130 in fase di progettazione, l'operazione restituirà edifici sicuri, moderni e funzionali. Legnini ha spiegato anche che alcuni interventi sono stati oggetto di ordinanza speciale, ma questa è una grande accelerazione, tutte le scuole saranno adeguate sismicamente, ha ribadito, avranno il massimo della sicurezza, alcune erano vincolate, ubicate in borghi e città, e per questo è stato fatto un grande lavoro acquisendo pareri per avere un miglioramento sismico di minimo l'80%, si è parlato anche del ruolo dell'ANAC, la cui collaborazione è stata molto importante per dare pareri senza rallentare la ricostruzione nell'ottica di una vigilanza collaborativa. Il ministro Bianchi ha chiuso i lavori dopo gli altri interventi, ha parlato di un grandissimo giorno e di un lavoro straordinario, la scuola E deve essere al centro della comunità, un lavoro che è stato possibile per Bianchi grazie a un approccio che ha unito diverse amministrazioni, dando compattezza di responsabilità per il ministro all'elemento fondante dell'intervento, l'occasione però per lui deve far ripensare anche i territori, la scuola infatti deve essere aperta, una scuola moderna e la frizione deve andare al di là dell'orario scolastico, come per l'uso di palestre o biblioteca ad esempio, ha spiegato che devono essere a disposizione di di tutta la comunità.